E' giunto l'ora di dire basta a questo vecchio modo di fare politica. La provincia regionale di Messina si è sempre dimenticata del nostro meraviglioso comprensorio. La Riviera Ionica non ha più bisogno di fumo, ma di progetti seri, di obiettivi sostenibili e di risposte concrete ai giovani e alla nostra gente. Attraverso me il nostro territorio sarà posto al centro della provincia. Insieme possiamo e dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo voltare pagina. All'elezione provinciale del 15 e 16 giugno sbarra il simbolo del centro con Dalia e scrivi Francilia.